Grazie a tutti. Questo è positivo perché sicuramente c'è un feedback in quello che è stato il lavoro di questa campagna elettorale, sono stati tanti mesi intensi prima di preparazione e poi di lavoro sul campo, come vi siete mossi sul campo per conquistare queste preferenze? Non voglio essere riduttivo, sembrare quasi che uno se la tira, non ho notato grandissime differenze, se no un po' più di impegno a livello proprio di orario, perché noi mediamente questo lavoro lo facciamo tutto l'anno, e quindi di trovarsi con i cittadini, di andare nei mercati, può sembrare le solite frasi fatte ma è la verità e quindi non ho trovato grandissime differenze, qualcuno mi diceva quanto è dura la campagna elettorale, devo essere sincero, a parte un po' di meno di ore di sonno, per il resto uguale come tutto l'anno. Diciamo che forse potrebbe essere questo, questa è una mia domanda importante, potrebbe essere questa la chiave di interpretazione di questo vostro esploat elettorale, di questa vostra crescita elettorale negli ultimi anni proprio qui in Piemonte, c'è questa vostra presenza costante in mezzo al territorio. Sì, io dico sempre che in qualsiasi campo, ancora di più in quello politico, quando uno lavora poi i risultati alla fine arrivano. E a proposito dei risultati vediamo la prima fotografia, tra l'altro è stata un'elezione molto combattuta, Roberto Cota ha vinto per 9400 preferenze circa, qualcosa del genere, comunque uno scarto esiguo, cosa che ha dato anche modo da alcuni di sostenere che questa poteva essere una vittoria sempre per il centrosinistra che per il centrodestra. In realtà poi le preferenze parlano chiaro, i numeri parlano chiaro, tu cosa ne pensi? Io dico che in democrazia uno quando prende anche un voto in più ha vinto, dovremmo partire da un altro discorso, partire dal fatto che fino al giorno stesso la sinistra, io sono capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, era straconvinta di vincere. Ecco, forse l'unica persona che nei giorni precedenti avevo visto un po' preoccupato, anche perché dico abbiamo un ottimo rapporto al di là delle differenti posizioni politiche, l'unica persona che ho visto un po' preoccupato era Sergio Chiamparino, il sindaco Chiamparino. Perché lui a differenza di quasi tutti, non mai fare di ogni erba un fascio, di quasi tutti gli altri esponenti del PD o del centrosinistra è molto legato al territorio e quindi sentiva gli umori del territorio, come li sentivamo noi, noi dall'altra parte eravamo forse gli unici che ci credevamo veramente. Ecco, a questo punto vediamo la seconda foto che non è una foto, è una grafica, è un numero, 5102, che cosa vuol dire questo numero? 5102 sono le mie preferenze personali, devo ringraziare, è un bel numero anche perché noi a differenza di altri candidati non abbiamo bacini elettorali ben specifici o circuiti ben specifici in cui andare ad attingere, a me piace parlare molto chiaro, i voti. Noi i voti li prendiamo dalla gente comune, non che gli altri non li prendano, sempre gente è, ma è diverso, è molto diverso. Tanti hanno proprio dei luoghi in cui vanno ad attingere questi voti. Delle clientele si può dire? Sì, delle clientele, si può dire sicuramente perché è così. Noi invece li andiamo a prendere mediamente proprio, non dico a uno a uno perché sarebbe falso, ma comunque molto della persona, molto parlando. Quindi se lo convinci, se risulti credibile, ti dai voto. Ecco, senza voler essere ipocriti, la vittoria della Lega non era così scontata, almeno due mesi fa all'inizio della campagna elettorale. Non era assolutamente scontata. Io volevo essere anche delicato, ma tu sei molto schietto. Ecco, molti dicevano che la presidenza Bresso, questi 5 anni di Bresso, soprattutto dal punto di vista culturale, dei salotti, così vogliamo chiamarli, salotti culturali della Torino, che conta, tra virgolette, è nata sostanzialmente un po' in continuità con quella che erano i 10 anni di Ghigo. E tutti dicevano che l'unico modo per cambiare veramente le carte in tavola, per dare una svecchiata un po' anche al sistema, sarebbe stato proprio la presidenza di uno come Roberto Cota. Perché la Lega avrebbe cambiato un po' di cose. Ecco, è vero oppure è esagerato, dire così? Beh, non è esagerato, partendo dal primo dato, quello dell'elezione, la Lega ha di nuovo tramite bossi, devo dire, sparigliato le carte, sparigliato con un candidato che era dato perdente, ma è l'unico candidato che si è visto come il nuovo, è stato visto come il nuovo, come un cambiamento, come un vento fresco, un'aria nuova. Peraltro ha 42 anni. 42 anni, oltre al discorso dell'età. Che però comunque conta, alzo perché? Conta, no no no, conta senz'altro, e ha contato, e ha contato, però conta anche il fatto che alle persone, finché gli dai comunque, indipendentemente dai colori politici, che anche lì i colori politici sono molto anacquati, sarà un bene, sarà un male, non lo so e non me ne importa, però tra un Ghigo e un Abresso, è cambiato tanto, secondo me? No. Noi vogliamo cambiare, noi vogliamo veramente portare la regione al centro dei cittadini, la regione, ma più che altro, questa è una frase fatta, non bisognerebbe dirla, la regione è vicino al cittadino, il cittadino è vicino alla regione. Io chiedevo in questo mese e mezzo, due mesi di campagna elettorale, quando incontravo un qualsiasi gruppo di persone e facevo una domanda, ditemi un provvedimento della giunta Abresso di questi cinque anni, glielo faccio anche a lei. Davo qualche secondo, beh no, poi se uno è preparato, certo che può rispondere. Mediamente la gente comune, la gente che non si interessa di politica, che è la stragrande maggioranza, per fortuna forse, dei cittadini, non sapeva cosa rispondere. Beh, questo è un punto interessante, forse chiave dell'intera faccenda. È il punto chiave dell'intera faccenda, bravo. È il punto chiave, la regione è sentita come un organismo molto lontano, distante, invece dovrebbe essere vicinissimo. C'è il comune e poi c'è la regione, c'è il tuo sindaco e poi ci dovrebbe essere il governatore della regione. Ecco, a proposito di novità, in questa campagna elettorale ce n'è un'altra, oltre ovviamente all'ottimo risultato della Lega Nord e al nuovo presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, c'è anche l'affermazione del Movimento 5 Stelle, guidato tra virgolette da Beppe Grillo, anche se poi non è esattamente così, il cui referente in Piemonte è Davide Bono. Ha ottenuto 90 mila preferenze personali, vabbè, in realtà poi sono preferenze per il Movimento, lui personali ne ha ottenute un po' di meno, più o meno 5 mila circa, se non sbaglio. Ecco, un parere, vediamo intanto questa fotografia di Davide Bono, un parere su questo movimento, non assomiglia un po' alla Lega dell'inizio o è esagerato? Ma questo non lo so, io non mi atteggio a politico, non me lo sono mai atteggiato e cercherò di non atteggiarmi mai a politico di mestiere, diciamo di professione, non lo so se assomiglia alla Lega, è chiaro che però l'unica cosa che, come al solito non hanno capito niente il PD e l'Abrezzo in particolare, ma il PD in generale. Riguardo il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle, non hanno capito assolutamente niente e li hanno accusati di aver perso le elezioni per colpa loro. Secondo te è vero? No, perché non possono pensare di fare alleanze allargate a minestroni, pastrocchi o cosa, mettere tutti insieme, tutto il contrario di tutto, solo per le poltrone e poi pensare che non ci sia un qualcuno che dice io non ci sto a questo progetto, un qualcuno che magari, vero o non vero, non lo so, il tempo lo dimostrerà, non è interessato comunque assolutamente al potere, alle poltrone e che dice io non ci sto, non posso starci in una coalizione che c'è l'Udc e ci sono i radicali assieme, l'Udc è rifondazione, l'Udc è Chieppa. Non può essere una coalizione in cui c'è l'Udc praticamente? L'Udc non dovrebbe essere da nessuna parte secondo me, questo è il mio pensiero personalissimo, per me potrebbe anche scomparire e farebbe un bene per l'Italia, ma comunque questo è il mio pensiero, io l'esterno, io ho imparato che se ti tieni dentro le cose poi ti tieni l'Udc, o rischi l'Udc, quindi bisogna dirle le cose. Siamo quasi in chiusura, vediamo l'ultima fotografia, eccola qua, la Presidente uscente, sconfitta l'elezione e adesso capogruppo all'opposizione, quale sarà la prima cosa che le dirai, se le dirai qualcosa l'11 maggio, cioè la prima riunione del nuovo Consiglio regionale? Prima di tutto bisogna vedere se sarà il capogruppo dell'opposizione la Mercedes Bresso, perché proprio di oggi lei con la sua solita arroganza che l'ha portata anche alla sconfitta e soprattutto col suo livore ha detto che lei non farà parte del gruppo del PD. Sì, mi è uscita dal Partito Democratico. E quindi questo non lo so cosa farà la Bresso, non mi interessa, penso che interessi anche poco ai cittadini piemontesi cosa farà la Bresso, faccia quello che vuole, lei dovrebbe fare l'opposizione, vediamo se avrà voglia più che altro di fare l'opposizione. E' difficile, devo dire, se riuscirà tanto di capello, difficile per una persona che ha sempre vinto, tranne questo caso lei ha sempre vinto, 10 anni in provincia e poi in regione, ha sempre vinto, difficile, è sempre stata dalla parte della maggioranza, è difficile fare l'opposizione. Bene, intanto noi ringraziamo Mario Carossa, gli diamo appuntamento poi in bocca al lupo e quant'altro per l'11 maggio con questa nuova esperienza in Consiglio regionale. Grazie mille e buon lavoro.